Mentre Donna Giannetta, ancora in sottana e con le spalle e le braccia scoperte, e un po' anche il seno, più di un po', veramente, si racconciava ai bei capelli corvini, sedute innanzi alla specchiera, il marchese Don Giulio del Carpine finiva di fumarsi una sigaretta, sdraiato sulla poltrona a piede del letto disfatto, ma con un tale cipiglio che in quella sigaretta pareva vedesse e volesse distruggere chissà che cosa, dal modo come la guardava nel togliersela dalle labbra, dalla rabbia con cui ne aspirava il fumo e poi lo sbuffava. D'improvviso si rizzò sulla vita e disse, scrollando il capo, «Ma no, via, non è possibile!» Donna Giannetta si voltò sorridente a guardarlo, con le belle braccia levate e le mani tra i capelli, come donna che non tema di mostrare troppo del proprio corpo. «Ancora ci pensi?» «Perché non c'è logica?» scattò egli alzandosi stizzito. «Tra me è coso!» «E lulù, via! Non tocca dirlo a me!» Donna Giannetta chinò il capo da una parte e stette così a osservare don Giulio di sotto il braccio, come per farne una perizia disinteressata prima di ammettere un giudizio. Poi, comicamente, quasi che la coscienza proprio non le permettesse di concedere senza qualche riserva, sospirò, «Eh, secondo, ma che secondo, fai piacere!» «Secondo, secondo, mio caro!» ripetì allora senz'altro donna Giannetta. Del carpine scrollò le spalle e si mosse per la camera. Quando aveva la barba, era veramente un bell'uomo, alto di statura, ferrigno. Ma ora tutto raso per obbedire alla moda, con quel mento troppo piccolo e quel naso troppo grosso. Dire che fosse bello, via, non si poteva dire, soprattutto perché pareva che lui lo pretendesse, anche così, con la barba rasa, anzi, appunto perché se l'era rasa. La gelosia del resto, sentenziò, non dipende tanto dalla poca stima che l'uomo ha della donna o viceversa, quanto dalla poca stima che abbiamo di noi stessi. E allora, ma guardandoci per caso le unghie, perdette il filo del discorso e fissò donna Giannetta come se avesse parlato lei e non lui. Donna Giannetta, che se ne stava ancora alla specchiera e con le spalle voltate, lo vide nello specchio e con una mossetta degli occhi gli domandò. E allora? E allora che cosa? Ma sì, è proprio questo. Nasce da questo, riprese lui con rabbia. Da questa poca stima di noi che ci fa credere, o meglio, temere di non bastare a riempire il cuore o la mente, a soddisfare i gusti o i capricci di chi amiamo. Ecco. Ah, fece allora lei con un respiro di sollievo. E tu? Non l'hai di te? Che cosa? Con te sta poca stima che dici. Non l'ho, non l'ho, non l'ho, se mi paragono con... Coso? Con Lulu, ecco. Povero Lulu mio, esclamò allora donna Giannetta, rompendo in una sua abituale risatina che era come una cascatella gorgogliante. Ma tua moglie? Domandò poi. Bisognerebbe ora vedere che stima ha di te tua moglie. Oh, senti, soffretto a rispondere don Giulio infiammato. Non posso in nessun modo crederla capace di preferirmi... Coso? Non c'è logica, non c'è logica. Mia moglie sarà, sarà come vuoi tu, ma intelligente, eh? Di noi, chio sappia, non sospetta. Perché lo farebbe? E con Lulu, poi? Donna Giannetta, finito ad acconciarsi i capelli, si levò dalla specchiera. Tu, insomma, disse. Difendi la logica. La tua, però. Prendemi il copribusto, di là. Eccoci, codesto, grazie. Non la logica di tua moglie, caro mio. Come ragionerà Livia? Perché Lulu è affettuoso, Lulu è prudente, Lulu è servizievole. E mica tanto sciocco, poi, sai. Guarda, io, per esempio, non ho il minimo dubbio che lui... Ma va, negò decisamente don Giulio dando una sballata. Del resto, che sai tu, chi te l'ha detto? Fece donna Giannetta pressandoglisi, prendendolo per le braccia e guardandolo negli occhi. Ti alteri? Ti turbi sul serio? Ma scusa, è semplicemente ridicolo. Mentre noi qua... Non per questo, scattò del carpine infocato in volto. Non ci so credere, ecco. Mi pare impossibile. Mi pare assurdo che Livia... Ma sì? Aspetta, lo interruppe donna Giannetta. Gli tese prima il copribusto di Nansuc, perché egli l'aiutasse a infilarselo. Poi andò a prendere dalla mensola una borsetta. Ne trasse un cartoncino filettato d'oro strappato dal tacquino. E glielo porse. Ti era scritto frettolosamente a matita un indirizzo. Via Sardegna, 96. Se vuoi, per pura curiosità, Don Giulio del Carpine restò a guardarla, stordito, col pezzettino di carta in mano. Come? Come l'ha scoperto? Eh, fece donna Giannetta stringendosi nelle spalle e socchiudendo maliziosamente gli occhi. Lulù è prudente, ma io... Per nostra sicurezza, caro mio, tu badi troppo a te. Non ti sei accorto, per esempio, come io da qualche tempo, venga qua e ne vada via più tranquilla. Ah, sospirò egli, astratto, turbato. E lì via, dunque? Via Sardegna. Sarebbe una traversa di via Veneto? Sì, numero 96. Una delle ultime case in fondo. C'è sotto uno studio di scultura, preso anche a pigione da Lulù. Ah ah ah! Te lo figuri, Lulù? Scultore? Rise forte, a lungo. Rise altre volte, a scatti, mentre finiva di vestirsi per le comiche immagini che suscitava il pensiero di Lulù, suo marito, scultore in una scuola di nudo con Livia del Carpine per modella. E guardava obliquamente Don Giulio, che si era seduto di nuovo sulla poltrona col cartoncino arrotolato fra le dita. Quando fu pronta, col cappellino in capo e la veletta abbassata, si guardò allo specchio, di faccia, di fianco, poi disse «Non bisogna presumere troppo», disse, caro. «Io ho ciò piacere per il povero Lulù e anche per me. Anche tu, del resto, dovresti esserne contento». Coppiò di nuovo a ridere, vedendo la faccia che lui ne faceva e corse a sedergli sulle ginocchia e a carezzarlo. «Vendicati su di me, via, Giugiu! Come sei terribile! Ma chi la fa all'aspetta, caro? Proverbio! Poiché Lulù è contento, noi adesso... Io voglio prima accertarmene, capisci?» dissegli duramente, con moto di rabbia malrepresso, quasi respingendola. Donna Giannetta si levò subito in piedi, risentita, e disse fredda fredda «Fa pure! Addio!» Ma soffrettò a levarsi anche lui, pentito. L'espansione d'affetto a cui stava per abbandonarsi gli fu però interrotta dalla stizza persistente. Tuttavia disse «Scusami, Gianna, mi... mi hai frastornato, ecco. Sì, hai ragione. Dobbiamo vendicarci bene. Più mia! Più mia! Più mia!» E la prese così dicendo per la vita e la strinse forte a sé. «No, Dio, mi guasti tutta di nuovo!» gridò lei, ma contenta, cercando ad opporsi con le brazza. Poi lo baciò pian piano, teneramente, da dietro la veletta e scappò via. Giù del carpine, anglottato e con gli occhi fissi nel vuoto, rimase a raschiarsi le guance rase con le unghie della mano spalmata sulla bocca. Si riscosse come punto da un improvviso ribrezzo per quella donna che aveva voluto morderlo velenosamente, così, per piacere. Contenta ne era, ma non per la loro sicurezza, no, contenta di non essere sola e anche, ma sì, lo aveva detto chiaramente, per aver punito la presunzione di lui, senza capire, imbecille, che se lei, avendo Lulù per marito, poteva in certo qual modo avere una scusa al tradimento, Livia no, per Dio, Livia no! S'era fisso ormai questo chiodo e non si poteva dar pace. Dell'onestà di sua moglie come di quella di tutte le donne in genere, non aveva avuto mai un gran concetto, ma uno grandissimo ne aveva di sé della sua forza, della sua prestanza maschile e perciò riteneva fermamente che sua moglie, forse però, poteva essersi messa con Lulusacchi per vendetta. Vendetta? Ma Dio mio! che vendetta per lei? Avrebbe fatto semmai quella di Lulusacchi, non già la sua, mettendosi con un uomo che valeva molto meno di suo marito. Già, ma non s'era egli messo scioccamente con una donna che valeva senza dubbio molto meno di sua moglie? Ecco allora perché Lulusacchi mostrava di curarsi così poco del tradimento di donna Giannetta. Sfido! Erano suoi tutti i vantaggi di quello scambio. Anche quello d'aver acquistato dalla relazione di lui con donna Giannetta il diritto ad essere lasciato in pace. Il danno e le beffe, dunque. Ah no! Per Dio! No! E poi no! Uscì piano d'astio e furioso. Tutto quel giorno si dibatté tra i più opposti propositi perché più ci pensava più la cosa gli pareva inverosimile. In sei anni di matrimonio aveva sperimentato sua moglie se non al tutto insensibile certo non molto proclive all'amore. Possibile che si fosse ingannato così? Stette tutto quel giorno fuori rincasò a tarda notte per non incontrarsi con sua moglie. Temeva di tradirsi quantunque dicesse ancora a se stesso che prima di credere voleva vedere. Il giorno dopo si svegliò fermo finalmente in questo proposito di andare a vedere ma appena sulle mosse cominciò a provare un'altra irritazione avvinimento e nausea perché dato il caso che il tradimento fosse vero che poteva far lui nulla fingere soltanto di non sapere e non c'era il rischio di imbattersi nell'uno o nell'altra per quella via forse sarebbe stato più prudente andare prima di mattina a vedere soltanto quella casa far le prime indagini e deliberare quindi sul posto ciò che gli sarebbe convenuto di fare. Si vestì in fretta andò vide così la casa al numero 96 la quale aveva realmente al pian terreno lo studio di scultura di cui donna Giannetta aveva tanto riso. La verità di questa indicazione gli rimescolò tutto il sangue come se se importasse di conseguenza la prova del tradimento. Dal portone ad una casa di limpetto un po' più giù si fermò a guardare le finestre di quella casa e a domandarsi quali fossero quelle del quartierino appigionato dal lulù. Pensò infine che quel portone non guardato da nessuno poteva essere per lui un buon posto da vedere senza essere visto quando a tempo debito sarebbe venuto a spiare. conoscendo le abitudini della moglie le ore in cui soleva uscire di casa argomentò che il convegno con l'amante poteva aver luogo o alla mattina tra le dieci e le undici o nel pomeriggio poco dopo le quattro ma più facilmente di mattina ebbene poiché era lì perché non rimanerci poteva darsi benissimo che gli riuscisse di togliersi il dubbio quella mattina stessa. Guardò l'orologio mancava poco più di un'ora alle dieci impossibile star lì fermo in quel portone tanto tempo poiché lì vicino c'era l'entrata a Villa Borghese da Porta Pinciana ecco si sarebbe recato a passeggiare a Villa Borghese per un'oretta. Era una bella mattinata di novembre un po' rigida entrato nella villa Don Giulio vide nella prossima pista due ufficiali d'artiglieria insieme con due signorine che parevano inglesi sorelle bionde e svelte negli amazzoni grigie con due lunghi nastri scarlatti annodati intorno al colletto maschile. Sotto gli occhi di Don Giulio essi presero tutte e quattro a un tempo la corsa come per una sfida e Don Giulio si distrasse scese il ciglio del viale si appressò alla pista per seguir quella corsa e notò subito con l'occhio esperto che il cavallo un sauro montato dalla signorina che stava a destra buttava male i quarti anteriori e quattro scomparvero nel giro della pista e Don Giulio rimase lì a guardare ma dentro di sé sua moglie Donna Livia su un grosso baio focoso nessuna donna stava così bene in sella come sua moglie era veramente un piacere vederla cavallerizza nata con tanta passione per i cavalli così nemica dei languori femminili sarà andata a mettere con quei lulusacchi frollo melenso era da vedere via girò astratto assorto i viali dove lo portavano i piedi a un certo punto consultò l'orologio e si affrettò a tornare indietro saranno fatte circa le dieci per bacco e diventava quasi un'impresa ora attraversare via Sardegna per arrivare a quel portone là in fondo certo sua moglie non sarebbe venuta dalla parte di via Veneto ma da laggiù per una traversa di via Boncompagni c'era però il rischio che di qua venisse Lulù e lo scorgesse simulando una grande disinvoltura senza voltarsi indietro ma allungando lo sguardo fino in fondo alla via del carpine andava con un gran batticuore che dandogli una romba negli orecchi quasi gli toglieva il senso dell'udito man mano che non trava l'ansia gli cresceva ma ecco il portone ancora pochi passi e Don Giulio stava per trarre un gran respiro di sollievo scattaiolando dentro il portone quando tu qua trasecolò Lulusacchi era lì anche lui nello stesso portone Curvo carezzava un cagnolino lungo lungo basso basso di pelo nero e quel cagnolino gli faceva un mondo di feste tutto fremente e si storcinava si allungava grattando con le zampette sulle gambe di lui o saltava per arrivare a lambirgli il volto ma non era Liri quello sì Liri il cagnolino di sua moglie Lulù era pallido alterato dalla commozione aveva gli occhi pieni di lacrime evidentemente per le feste che gli faceva il cagnolino quella bestiola buona quella bestiola cara che lo conosceva bene e gli era fedele ah esso sì esso sì non come quella sua patronaccia donna indegna donna vile sì sì o buonghi lì anche vile vile perché una donna che si porta nel quartierino pagato dal proprio amante un altro amante il quale dove essere per forza un miserabile un farabutto mascalzone questa donna o buon Liri è vile 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 così diceva fra sé Lulusacchi carezzando il cagnolino e piangendo dall'onta e dal dolore prima che Giulio del Carpine entrasse nel portone dove anche lui era venuto ad appostarsi per un equivoco preso dalla vecchia serva che si recava dopo i convegni a rassettare il quartierino Lulù aveva scoperto quell'infamia di donna Livia e venendo ad appostarsi aveva trovato per istrada Liri smarrito evidentemente dalla padrona nella fretta di salir su al convegno la presenza del cagnolino lì in quella strada aveva dato la prova a Lulusacchi che il tradimento era vero era vero anche lui non aveva voluto credersi ma con più ragione lui perché veramente una tale indegnità passava la parte e adesso si spiegava perché ella non aveva voluto che gli tenesse la chiave di quel quartierino e se la fosse tenuta lei invece costringendolo ogni volta ad aspettare lì nello studio di scultura che la venisse oh com'era stato imbecille stupido cieco tutto intanto poteva aspettarsi il povero Lulù tranne che don Giulio del Carpine venisse a sorprenderlo nel suo agguato i due uomini si guardarono allibiti Lulusacchi non pensò che aveva gli occhi rossi di pianto ma istintivamente poiché le lacrime si erano raggelate sul volto in fiamme se le portò via con due dita e alla prima domanda lanciata nello stupore da don Giulio tu qua rispose belbettando aprendo le labbra a uno squallido sorriso già sì aspettavo del Carpine guardò acciliato il cane e lì Lulusacchi chinò gli occhi a guardarlo come se non lo avesse prima veduto e disse già non so si trova qui di fronte a quella smarrita scimunitaggine don Giulio ebbe un fremito di stizza scese sul marciapiede della via e guardò in su al numero del portone insomma è qua dov'è che dici domandò Lulusacchi ancora col sorriso squallido sulle labbra ma come se non avesse più una goccia di sangue nelle vene del Carpine lo guardò con gli occhi invetrati ti aspettavi tu qua un mio amico babbetò Lulù è andato su con Livia domandò del Carpine ah no che dici fece Lulusacchi smorendo via più ma se lì è qua già è qua ma ti giuro che io l'ho proprio trovato per istrada disse col calore della verità Lulusacchi infoscandosi a un tratto qua per istrada ripetete il Carmine chinandosi verso il cane sai tu dunque la strada eh di lì come mai come mai la povera bestiola sentendo la voce del padrone insolitamente carezzevole fu presa da una subita gioia gli si slanciò sulle gambe dimenandosi tutta cominciò a smaniare con le zampette s'allungò guaiolando poi s'arrotolò per terra e quasi fosse improvvisamente impazzita si mise a girare a girar di furia per l'androne poi a spiccar salti addosso al padrone addosso a Lulù abbaiando forte ora come se in quel suo delirio d'affetto in quell'accensione di istintiva fedeltà volesse uniti quei due uomini tra i quali non sapeva come spartire la sua gioia e la sua devozione era veramente uno spettacolo commoventissimo la fedeltà di questo cane e di una donna infedele verso quei due uomini ingannati l'uno e l'altro ora per sottrarsi al penosissimo imbarazzo in cui si trovavano così di fronte si compiacevano molto della festa frenetica che esso faceva loro e presero ad aizzarlo con la voce col frullo delle dita qua dirì povero Liri ridengo tutte e due convulsamente un tratto però Liri si arrestò come per un fiuto improvviso andò sulla soglia del portone vi si acculò un po' sospeso inquieto guardando nella via con le due orecchie tese e la testina piegata da una parte quindi spiccò la corsa precipitosamente Don Giulio sforse il capo a guardare e vide allora sua moglie che svoltava dalla via seguita dal cagnolino ma sentì afferrarsi per un braccio da Lulusacchi il quale pallido stravolto fremente gli disse aspetta lasciami vedere con chi come fece Don Giulio restando ma Lulusacchi non ragionava più lo strappò indietro ripetendo lasciami vedere ti dico sta zitto vide lì che si era fermato all'angolo della via perplesso come tenuto tra due guardando verso il portone in attesa poco dopo dalla porta segnata col numero 96 uscì un giovanottone sui vent'anni tronfio infocato in volto con un paio di baffoni in su inverosimili il toti esclamò allora Lulusacchi con un ghigno orribile che gli contraeva tutto il volto senza lasciare il braccio di Don Giulio aggiunse il toti capisci un ragazzaccio uno studentello capisci che fa tua moglie ma glielo accomodo io adesso lasciami fare hai visto e ora basta Giulio basta per tutti sai scappò via su tutte le furie Don Giulio del Carpine rimase come intronato eh che due dunque Lulusacchi messo da parte oltrepassato lì un altro nello stesso quartierino un giovinastro sua moglie e come mai Lulù dunque stava ad aspettare anche lui e quel cagnolino smarrito lì in mezzo alla via confuso eh fido tra tanti e aveva fatto le feste anche a lui carino 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 ah fece Don Giulio scrollandosi tutto dalla nausea dal ribrezzo ma pur con un segreto compiacimento che per Lulù almeno era come aveva detto lui che veramente cioè sua moglie non aveva potuto prenderlo sul serio e lo aveva ingannato ecco qua e non solo ma anche schernito anche schernito cavò il fazzoletto e si stropicciò le mani che la bestiola devota gli aveva lambite se le stropicciò forte 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 fin quasi a levarsi la pelle ma a un tratto se lo vide accanto chiotto chiotto con le orecchie basse la coda tra le gambe quel povero Lidì che sarà provato a seguir prima la padrona poi Toti poi Lulù e che ora infine aveva preso a seguir lui Don Giulio fu assalito da una rabbia furibonda gli parve oscenamente scandalosa la fedeltà di quella brutta bestiola e le allungò anche lui un violentissimo calcio fine grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti